La domanda che mi sento fare più spesso in assoluto è come faccio a migliorare le mie foto o i miei video. Nel corso del video di oggi vi farò vedere come è possibile migliorare le nostre riprese, ma senza investire tanti soldi per comprare la fotocamera ultimo modello o l'obiettivo super performante. Andremo a vedere infatti come grazie alla luce possiamo migliorare le nostre riprese e se abbiamo la luce giusta possiamo avere delle belle riprese anche semplicemente con un telefono cellulare. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia e di videomaking ormai da tanti anni. Nel corso del video di oggi vi presento una soluzione in collaborazione con SmallRig che mi ha mandato un prodotto che sta venendo lanciato adesso sul mercato ed è a mio modo di vedere perfettamente a metà tra una grossa luce da studio e un piccolo quarzetto a batteria. Questo prodotto che andremo a vedere incorpora le caratteristiche migliori di queste due tipologie di illuminatore. Vi consiglio di seguire questo video fino alla fine perché faremo vedere degli spezzoni tratti da un videoclip che è stato realizzato per una vera situazione di lavoro in uno studio di registrazione e abbiamo utilizzato proprio la luce di cui vi vado a parlare oggi. Quindi vedremo dei pezzi di un lavoro vero. Ricordo a chi non l'avesse ancora fatto di iscriversi perché io vedo che tantissimi anche che commentate che fate domande frequentemente poi non siete iscritti al canale. A me serve molto vedere che ci sono persone che si iscrivono al canale perché mi dà la misura di quanto è grande la community e inoltre mi aiuta con l'algoritmo. A questo punto direi bando alle ciance e io vi presento il nostro ospite di oggi che è la RC100B Coblite VideoLED di SmallRig. Come potete vedere la prima cosa su cui casca l'occhio è che è piccola ragazzi è molto più piccola della luce da studio che utilizzo di solito ma a differenza di quella che vi ho fatto vedere prima che è una luce da 60 watt questa eroga una potenza di 100 watt quindi è più piccola ma è più potente. Una cosa che mi ha molto sorpreso è la ventola. Come sempre c'è una ventola di raffreddamento è silenziosissima è molto più silenziosa delle luci che utilizzo di solito quindi da questo punto di vista devo dire che sono molto soddisfatto. Il design di SmallRig a me piace anche io ho sempre usato i prodotti di SmallRig da ben prima che mi chiedessero di collaborare con loro quindi questa cosa mi viene assolutamente gradita. Parliamo un attimo di che cosa c'è incluso nella confezione perché noi abbiamo sì la nostra luce ma abbiamo anche questo braccetto che come adesso vi faccio vedere si va a innestare qui sopra e a vite lo fissiamo facile così e quindi abbiamo la nostra luce su un supporto con cui possiamo portarla in giro oppure metterla su uno stativo in maniera tale che rimanga lì e possiamo usarla in una situazione da studio il che è esattamente quello che ho fatto io. Accessori forniti in dotazione abbiamo la sua parabolina guardate che caruccia piccolina è una mini Bowens potremmo definirla una mini Bowens quindi noi la andiamo a montare e la nostra luce può essere usata così oppure può essere usata senza niente ovviamente qui abbiamo il nostro bottone di sgancio con cui andiamo a sganciare e lo togliamo questa luce ovviamente viene con il suo alimentatore che ha un ingresso mi sembra un ingresso proprietario quindi possiamo usare solo il suo alimentatore non credo che possiamo usarne degli altri non ha la presa asciuco o cose del genere ma ha un alimentatore suo dedicato la cosa però che io ho trovato ancora più interessante è la possibilità di utilizzare questa soletta che io adesso rimuovo così vi faccio vedere vedete qui dietro noi abbiamo la possibilità di montare o una batteria grossa che in questo momento io non ho in dotazione oppure tramite questa soletta possiamo andare a montare due batterie piccole due batterie come questa per esempio questa è la NP-F970 una batteria sempre di small rig le cui caratteristiche sono abbiamo un'uscita USB una ricarica in entrata USB-C abbiamo un pulsantino mediante il quale è possibile vedere la carica residua una cosa che ho trovato molto carina perché in qualunque momento io posso premere e mi dice quant'è la carica rimasta ora noi possiamo andare a montare due di queste batterie nell'alloggiamento posto sul retro della nostra luce fa click, rimane attaccata nel momento in cui ne attacco due la mia luce è pronta per funzionare quanto durano queste batterie? dunque noi abbiamo fatto delle riprese con una potenza nominale del 55% quindi nel momento in cui l'abbiamo accesa siamo andati a 55% e abbiamo registrato per 40 minuti senza interruzioni le batterie hanno una potenza nominale residua del 65% quindi secondo me se teniamo una potenza del 50-60% superiamo ampiamente l'ora di registrazione continua con questo sistema il che non è niente male perché capite bene che con un sistema come questo noi siamo in grado di prendere questa luce che di fatto è come questa con il diffusore giusto e noi ce l'abbiamo il diffusore giusto perché è in dotazione con il diffusore giusto noi otteniamo praticamente tutti i tipi di luce che vogliamo possiamo avere una luce dura possiamo avere una luce morbida diffusa come quella che vedete adesso e possiamo averla in giro perché questo possiamo tenerlo così e portarla in giro e utilizzarla per delle riprese video oppure possiamo metterla su uno stativo e utilizzarla per delle riprese statiche in studio possiamo fare entrambe le cose vi faccio vedere anche questo come potete vedere questo qui è il suo diffusore fatto apposta adesso mi dispiace che non riusciamo a vederlo per intero perché qui non ho abbastanza spazio ma vi faccio vedere delle riprese addizionali dove lo vedete in funzione questo chiaramente si può montare sempre con la mini Bowens davanti alla nostra luce e fa esattamente quello che sta facendo la mia luce principale anch'io qui ho un altro Octabox sempre con il nido d'app e quindi otteniamo una luce assolutamente equiparabile a quella che vedete in questo momento ulteriore caratteristica di questa luce di cui non vi ho parlato questa come il nome suggerisce è una luce B che cosa significa B? quando io leggo 100 B significa 100 Watt quindi la potenza B significa che abbiamo la possibilità di modificare il colore infatti questa luce come molte altre luci di cui abbiamo già parlato ha la possibilità di modificare il colore e possiamo variare la temperatura in Kelvin questo significa che possiamo bilanciare la nostra luce e avere una temperatura Daylight come questa in questo momento io uso sempre una temperatura Daylight infatti anche nelle riprese che vi faccio vedere è stata usata una temperatura Daylight quindi 5600 o 5700 tra 5400 e 5700 Kelvin il range più o meno è quello però possiamo anche salire o scendere quindi possiamo avere una luce fredda e una luce calda questo è molto utile nel momento in cui vogliamo bilanciare le nostre luci esempio lucetta alle mie spalle è una luce calda questa è una luce Daylight quindi si vede lo stacco se io voglio far diventare fredda la mia luce dietro ma non voglio diventare freddo anch'io che cosa faccio? dico alla mia luce di produrre una luce calda come quella che c'è sullo sfondo e in macchina modifico la temperatura Kelvin in maniera tale da avere la mia ripresa tutta perfettamente bilanciata è un giochino relativamente semplice una volta si faceva mettendo dei gel colorati davanti alla nostra fonte di illuminazione ma adesso abbiamo questa integrazione con cui possiamo variare il colore della nostra luce vedete? abbiamo due manopole una è per la potenza e una è per la temperatura colore molto pratico molto facile da usare abbiamo il display che ci dice quali sono i valori che abbiamo impostato abbiamo anche una sezione effetti con cui possiamo impostare degli effetti che non ho ancora provato quindi siccome potrei fare degli altri contenuti in cui andiamo nuovamente a parlare di funzioni per le luci vi chiedo fatemi sapere in un commento se queste funzioni vi interessano non è una cosa che io utilizzerò per lavoro perché normalmente quando io faccio delle riprese utilizzo luce continua normale quindi gli effetti difficilmente li uso però se mi dite in tanti che vi interessa potrei fare un video dedicato agli effetti che è possibile tirare fuori da questa luce globalmente secondo me questo prodotto risponde alle esigenze di un videomaker alle prime armi o di un content creator perché questa è una soluzione piccola che è ideale per uno studio casalingo occupa meno spazio di tante altre soluzioni di cui abbiamo anche già parlato ci dà una luce di ottima qualità perché andiamo a matchare quasi perfettamente quella che sto utilizzando adesso lo provate andiamo a ottenere un effetto molto bello molto morbido con una bella qualità di luce un'intensità costante la possibilità di modificare il colore la possibilità di mettere modificatori devo indagare se ci sono modificatori diversi sarebbe carino vedere se ci sono anche gli snoot o se ci sono modificatori di altro tipo rispetto alla parabola e all'octabox che vi ho fatto vedere oggi se non dovessero esserci è possibile farseli artigianalmente c'è anche da dire questo e cosa che non vi ho detto c'è la possibilità di mettere un ombrello qui sotto c'è un piccolo foro passante con una vite di fissaggio con cui possiamo andare a mettere sia l'ombrello traslucido sia l'ombrello riflettente quindi in realtà sono tanti i modificatori che possiamo utilizzare con questa luce che diventa abbastanza versatile sia in una condizione di studio sia in una condizione dove siamo fuori e vogliamo tenere la luce in mano e tenete conto che se stiamo facendo per esempio riprese outdoor noi dovremmo chiedere un permesso per posizionare dei tre piedi a terra che reggano le nostre luci con una luce di questo tipo bypassiamo questo regolamento perché se abbiamo un assistente che ci tiene la luce e ci illumina la scena non dobbiamo più chiedere il permesso per posizionare tre piedi perché di fatto non è occupazione di suolo pubblico a questo punto io proverei proverei a farvi vedere per intero il videoclip che abbiamo realizzato interamente utilizzando questa luce ve lo faccio vedere sperando che YouTube non mi censuri l'audio perché c'è una musica dentro in questo videoclip che è una rielaborazione però se YouTube la riconosce potrebbe demonetizzare il video o bloccare l'audio quindi io provo a mettervela se sentite l'audio bene se invece l'audio sarà mutato vuol dire che il contenuto è stato riconosciuto e marchiato da un claim sul copyright quindi non posso usarlo però vi faccio comunque vedere le riprese così vi fate un'idea di che cosa si può ottenere con questa luce e con un minimo di conoscenza di set design e anche di conoscenze per quanto riguarda lo studio e la location in cui andare ad ambientare le nostre riprese attenzione attenzione questo è un piccolo inciso dal me del futuro ho fatto un test come mio solito e mi sono reso conto che il videoclip che volevo farvi vedere oggi non posso caricarlo integralmente su YouTube perché mi becco un claim sul copyright perché la musica non è originale quindi non posso mettervi l'audio per cui nel corso di questo video vi farò vedere degli spezzoni e troverò il modo di farvi vedere il videoclip intero lo linkerò da qualche parte magari alla fine del video in maniera tale che possiate vederlo ma verrà caricato a parte non sentirete l'audio in questo video perché altrimenti mi demonetizzano il video a questo punto vi chiedo come sempre fatemi sapere in un commento se uno strumento di questo tipo vi può piacere vi può interessare io vi lascio anche link in descrizione a cui potete trovare il prodotto e andare a vedere tutte le info del caso se avete domande su questo prodotto specifico sentitevi liberi di scrivere le vostre domande in un commento qui sotto io vi risponderò al più presto possibile testualmente o con degli shorts verticali motivo per cui vi ricordo di iscrivervi così non ve li perdete fatemi sapere se volete vedere ulteriori lavori fatti con questo strumento io sicuramente lo userò lo userò per fare altre cose perché è così comodo che me lo porto in giro al posto di altre cose più ingombranti e potenzialmente alzo anche il livello di certe produzioni dove magari in passato sono andato con questa e invece adesso mi porto questa quindi capite che si alza anche il livello ne parleremo ancora se mi dite che vi interessa io come sempre vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video e vi do appuntamento al prossimo video e vi do appuntamento al prossimo video